Volevo parlare di questi tre emendamenti che ho presentato come Shadow Rapporter alla situazione sui diritti fondamentali in Europa. Uno sui migranti, ponendo l'accento soprattutto sui trafficanti di esseri umani, uno per quanto riguarda il capitolo sociale ed economia sul period poverty, vi ricordate quello che abbiamo detto sulla povertà che incide durante la fase fertile della donna per quanto riguarda i dispositivi sanitari e quindi si chiede l'azzeramento dell'IVA su questi prodotti. Ed un terzo al quale tengo particolarmente che vi vorrei leggere su equality e dignity. Considerando che i diritti dei minori sono universali e che ogni minore gode degli stessi diritti senza discriminazione come il diritto al riconoscimento della filiazione, esorta gli stati membri a registrare gli atti di nascita indipendentemente dal modo in cui il figlio è stato concepito o è nato e dal tipo di famiglia da cui proviene, sia esso figlio di un genitore unico, di una coppia di fatto, di una coppia sposata o di una coppia che ha contratto un'unione registrata. IVI compreso il figlio con due genitori dello stesso sesso o adottato a livello nazionale in uno stato membro da uno o due genitori. Perché? Perché il diritto alla filiazione, quindi allo status del bambino nato, è un diritto universale imprescindibile a prescindere dal nucleo familiare che ti genera. Quindi a differenza di quello che si dice che è stato detto, la famiglia non può incidere su un diritto individuale universale.